ciao ragazzi bentornati signori bentornati camerata bentornati comunisti bentornati a tutti oggi video tanto richiesto tanto aspettato veramente richiestissimo su in particolare su un giocatore però io parlerò un po di tutto partiamo però da lui calcio mercato del cagliari riflessioni notturne è finita da poco liz cagliari io sto a dormire domani parto da barcellona con gli amici quindi sarò probabilmente ci saranno video pre registrati caricati però appunto questo lo dovevo per registrare lo vedrete magari tra due giorni e quindi devo sfruttare ogni momento utile per portarvi contenuti di bassa qualità allora discorso la padula discorso la padula io ripeto prendiamo che mettiamo caso perché anche qui chiaramente le considerazioni variano da modulo a modulo se il modulo è un 4 3 2 1 4 3 1 2 le considerazioni saranno di un certo tipo con un 4 e 3 saranno chiaramente di un altro tipo questo mi sembra ovvio e prendo come modulo il 4 e 3 modulo di riferimento con un 4 e 3 e considerando un paoletti che potrebbe giocare super giù giù per su la metà delle partite perché c'è sempre l'incognita fisica perché l'anno scorso dopo un primo prime dieci partite buone nel giorno di ritorno è crollato completamente fisicamente la padula quindi dovrebbe essere il titolare ora io data l'età e dato un insieme di cose ma esistono ancora lecce o cazzo quella vista che è un'ape o una civice madonna scusate devo andare a ammazzare fatto dicevamo 4 e 3 io preferisco la punta fisica preferisco la punta fisica perché per diecimila motivi perché nei momenti di un paoletti però un paoletti magari con dieci anni in meno con tanto prospettiva ecco non non fosse costato io onestamente avrei puntato su cerri pazzo probabile però io avrei puntato su cerri e avevi cerri pavoletti facevi un 4 e 3 con la punta fisica ora io non voglio neanche paragonare cerri e la padula perché onestamente io mi sento il culo molto più coperto e parato con la padula ed è un chiaro messaggio che cagliari vuole mandare nel nel quanto meno provare tramite playoff io penso più playoff che promozione diretta ma comunque provare quanto meno sino alla fine ad andare ad andare in serie a e prendendo la padula diciamo che questo messaggio viene viene portato bello avanti perché la padula cioè io ho visto anche stasera è veramente uno anche a livello caratteriale e secondo me non è troppo diverso da joe pedro come tipo di giocatore anche se più una punta cioè nel senso lui fa la punta non è un joe pedro che ha tutte le sue le sue fisse di avere quello attorno che gli gira in un certo modo e più che altro per il livello caratteriale sono giocatori diversi cioè joe pedro è uno isterico ma molto calmo assente lo so ho usato uno simolo calmo e isterico sì perché uno al 99 per cento dei casi molto assente poi quando si accende sapete le espulsioni che ha preso insomma è uno molto isterico in certi momenti caldi della partita la padula invece uno molto rissoso il pirata il pirata il pirata con questi questo taglio tutto fresco tutto fresco poi voi molti mi avete scritto ma guarda mi sta molto antipatico io non lo volevo io sono d'accordissimo cioè a me stava antipaticissimo la padula l'ho sempre disprezzato disprezzato a livello calcistico nel senso perché è un'antipatia veramente trasudante da tutte le parti però a un certo punto voglio dire oggi si è visto anche nei movimenti che un attaccante di un certo tipo che il suo mestiere lo sa fare molto bene che comunque grintoso che comunque antipatico virgola ma molto grintoso molto cattivo molto molto prestante quindi simile a joe pedro magari per certe caratteristiche completamente diverso per altre condivido appieno l'acquisto non lo so vediamo nel senso che la sua età ce l'ha però è anche vero che non è che possiamo fare una squadra di ragazzini ed è anche vero che questo è uno che in serie b è capace che fa 30 gol come niente se è servito bene e se è messo in condizione vediamo vediamo sulla padula non mi esprimo oltre perché comunque ci sono troppi elementi contrastanti che mi si contrastano pensare robin e quei pugni quelle botte quelle quelle menate però voglio dire non voglio neanche essere scontento per l'arrivo di la padula cioè sono sincero io cazzo mi sa che forse ho mutato il microfono vabbè io sono sono contento dopo soprattutto vorrebbe visto stasera mi sono reso conto che è un giocatore comunque con le palle al di là di tutto poi altre notizie e su questo apro delle riflessioni o delle fonti di cui una molto attendibile un'altra abbastanza insignificante però due fonti due fonti di cui era molto molto attendibile su zappa sapete che sono uscite le notizie zappa se ne va zappa ha chiesto la gestione cose entrambe queste fonti di cui una molto attendibile io adesso non voglio dire nominare chi è chi non è ma insomma chi mi segue da tanto tempo sa chi è perché su zappa già ve ne ho parlato più volte che insomma c'è una fonte abbastanza vicina e comunque mi è stato confermato adesso senza entrare nello specifico perché comunque ci sono cose nello specifico però diciamo che zappa non dove salvo chiaramente ragazzi dovesse arrivare qualcuno con 10 milioni e con un contratto da un milione e mezzo stagione a zappa chiaro che poi tutto quello che vi dico non ha senso però quello che so è che zappa rimane a cagliari senza se e senza ma poi ripeto arrivano offerte monster che adesso non sono messi in conto se ne va ma ad oggi ad oggi veramente salvo offerte clamorose rimane poi leggo delle cose tipo tramoni l'isandru in prestito in prestito e tutti che se ne vogliono disfare l'isandru che fa schifo è di qua di là l'isandru tolto che il giocatore più tecnico che aveva la primavera è un giocatore della tecnica con con desogus forse però ha veramente un mancino veramente sopraffino e importante però deve essere considerato io ora con questo gaston per aero tutta questa volontà questa rapidità questa celerità nel svendere nel buttare le ortiche un talento come l'isandru tramoni che anni fa era conteso da tutti e tuttora ci sarebbe più di qualche squadra interessata l'isandru io sono convinto però questo volevo subito bidonare per un gaston per aero che è un morto cioè io voglio dire io sono il primo che inizio stagione vi ha detto inizio di questa stagione che per me è iniziata per quando siamo in retorcessi vi ho detto ma se rimane gaston per aero questo secondo me in serie b1 che ti fa 15 gol e 15 assistenza problemi poi però ragazzi io vi faccio delle opinioni io mi creo delle opinioni su degli scampoli di partita su questo gaston per aero su questo giocatore che non conosco anch'io io vi dico le mie opinioni su quel che vedo e su quel che penso poi è chiaro che l'allenatore li segue tutto il giorno cioè io lo sapete che sono per il giocatore di tenacia cattivo aggressivo i cinghiali altare questi giocatori qui quindi sapete che io preferisco questi questi giocatori quindi se io fossi l'allenatore e vedessi un gaston per aero che si allena in certi modi che è moscio che molle io l'avrei buttato fuori la porta io non posso sapere come si allena gaston per aero che giocatore adesso l'abbiamo visto in queste uscite vi dico gaston per aero l'ala non lo può non lo può fare mai nella vita e non so neanche cosa possa voglia fare se sia quel se sia proprio l'italia dal suo posto forse deve non so deve andare in qualche in qualche nazionalità dove ci sono campionati imbarazzanti probabilmente non lo so perché veramente c'è il gaston per aero attuale da che sembrava un giocatore veramente secondo me promette ma non lo so non lo comprendo non lo comprendo però io la riflessione è questa ma voi bidonereste così velocemente lisandro tramoni io onestamente non lo so poi leggo altre cose del tipo appunto gaston non ha convinto matteo tramoni non ha convinto di quasi a tutto che matteo tramoni veramente dove si dovesse darlo via si dovesse dovessimo darlo via sarebbe veramente una grande cazzata perché lui la serie b la conosce perché ci ha fatto una stagione da protagonista tutto sommato al brescia dove ciccio andate a seguire ciccio 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 1911 youtube yt che va detto che per lui era il giocatore migliore del brescia andare a vendere matteo tramoni che tra l'altro numerose richieste in serie b ad una diretta concorrente sarebbe l'apoteosi una grandissima puttanata anche perché ripeto lì sulla sinistra adesso augusti tramoni mi rappresentano una certezza ma restamente mi rappresentano una certezza come comunque a destra io ripeto farei così lisandro lo vai ad aggregare alla primavera in un 2003 quindi non è un fuori quota è uno che può stare in primavera voi mi direte sì ma non cresce aspettate perché se per aero è questo per aero dopo cinque partite che gioca in questo modo in campionato viene messo fuori rosa e quindi avrà il bumbo e lisandro non devi andare in ambasce prendere l'ultimo gioco di mercato la trovata che è un giocatore che non piace a nessuno una figurina e poi parlo anche dei due centrocampisti e poi la smetto sono parlati di tanti nomi tanti nomi poi in entrata non si è parlato più di un cazzo nessuno però in uscita rog nandez rog se non doveva andare poi non ho capito la sampdoria non voleva spendere poi anche qui voglio dire riapro altre riflessioni io ragazzi ve lo dico altare mi sta più simpatico mi è entrato più nel cuore ma a livello di come sono stato io condizionato nel giocare mentre gioco a calcio a calcetti o dovete sapere vi faccio un edito di vita che io sino in seconda superiore ero alto tipo un metro e un metro e 70 ma non è anche un e 68 67 quindi veramente basso e quindi per forza di cose giocavo trequartista giocavo trequartista mi piaceva stare comunque più nelle zone più avanti e non sono uno particolarmente tecnico quindi ero molto molto più scarso non che adesso sia sia forte però ho trovato la mia dimensione diciamo interna ai campi da calcio poi io veramente mi sono alzato alzando mi diventando quasi uno e 90 è chiaro che o hai una tecnica incredibile sei kulusenski sei tutti quei giocatori che a me fanno impazzire quegli altri uno e 90 che era una tecnica pazzesca gaston per euro per assurdo oppure in quelle posizioni lì così davanti non ci puoi giocare e lì veramente l'illuminazione infatti ho fatto tipo ho fatto un anno di transizione dove letteralmente non riuscivo a stoppare un pallone non riuscivo a fare un cazzo perché ero completamente cambiato fisicamente mi dovevo conoscere poi veramente arrivato rogue adesso quando è che arrivato quando io faccio quarta forse mi sembra arrivato rogue io ho capito cosa cazzo vuol dire giocare a calcio intensità grinta cattiveria porconi cioè veramente tutto questo è quindi io a rogue sono affezionato all'inverosimile cioè per assurdo sono più affezionato a rogue che ad altare altare mi sta molto più simpatico cioè li voglio veramente bene però come a livello calcistico sono molto più affezionato a rogue nonostante abbia giocato solo una stagione e quindi quello vi dico è veramente pesante per me però ragazzi ragioniamo anche su cose concrete abbiamo una marea di centrocampisti alcuni sembrano validi va bene servo le riserve va bene ma non puoi tenere troppa gente come riserve il vice ma che cazzo vuol dire il vice a vent'anni fai vice di questo di quello rogue arriva da due stagioni con il crociato rotto e ha saltato la preparazione perché è sempre rotto sempre affaticamento di qua di là sempre rotto nandez anche lui arriva da una lesione a qualche cosa del ginocchio e anche lui ha praticamente saltato tutta la preparazione non lo so cioè dov'è che nasce l'utilità di questi giocatori eventualmente quest'anno e finisce io non vorrei che ci prendiamo un'accantonata pesante magari andando a perché poi anche oggi curfali disse l'ho visto veramente male ma perché sta soffrendo questa situazione del non capire quale sarà la sua posizione al prossimo anno cavuoti idem anche se cavuoti è molto meno forte o meglio molto meno completo troppe cose incerte troppe cose incerte serve un terzino sinistro serve un naturalmente dipende dal modulo ripeto forse un esterno d'attacco a centrocampo bisogna fare chiarezza e serve fare chiarezza scusate sono troppo stanco madonna che cazzo di animale che sono viva george altare king george of poeta king george ciao ragazzi